Ogni anno la stessa storia, io chiedo un iPhone in regalo, un nuovo iPhone in regalo, il regalo arriva, ma non è quello che volevo. Voi cosa fareste al mio posto? Io non riesco proprio ad accettare che chiedo un iPhone 6S nero e mi arriva un modello rose gold da 64GB. No, non posso accettarlo. E siccome i regali non si rifiutano, credo che anche quest'anno farò ciò che ho fatto gli anni scorsi. Ossia, per essere felice, romperò questo iPhone. Questo video è offerto in collaborazione con iPhone Repair. Tutti ne desiderano uno, noi ne abbiamo uno, anzi ne abbiamo più di uno, ma lui è un iPhone speciale perché è nato per essere messo alla prova. È un iPhone 6S 64GB rose gold, quindi che costa più di 800€, anzi si va verso i 900€ ed è stato acquistato con un unico scopo, essere messo alla prova nel nostro drop test. Andiamo quindi a vedere come si comporterà e se riuscirà a confermare i risultati positivi di iPhone 6. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Andrea Cervone per iPhoneItalia.com e oggi andiamo a vedere come si comporterà iPhone 6S rose gold da 64GB nel nostro drop test. Come al solito eseguiremo diverse cadute, in particolare partiremo dall'altezza tasca, quindi un'altezza molto frequente per le cadute di un iPhone, ossia quando lo tiriamo fuori dalla tasca e analizzeremo come al solito le tre prove di caduta, con schermo verso l'alto, laterale e schermo verso il basso. Questi tre tipi di caduta verranno poi riproposti ad altezza d'utilizzo, quindi l'altezza in cui normalmente utilizziamo il nostro iPhone, e all'altezza di chiamata. Il tutto per cercare di darvi un risultato di questo test il più vicino possibile alle reali possibilità che vi cada un iPhone e alle relative altezze a cui potrebbe cadere. Quindi non perdiamo tempo e partiamo subito con la prima caduta, con schermo verso l'alto, d'altezza tasca. Allora ragazzi, ci siamo, prima caduta d'altezza tasca con lo schermo verso l'alto, quindi impatto sul retro dell'iPhone, retro in alluminio 7000, quindi valuteremo come risponde ai graffi. Avvio la registrazione dall'iPhone, c'è una ripresa slow motion dal basso da un altro iPhone 6S e la ripresa generale dalla fotocamera. Allora, partiamo, altezza tasca in 1, 2, 3. 2, 3. Allora ragazzi, primo impatto sulla parte posteriore dell'iPhone, non noto nessun segno sulla fotocamera, fatemi guardare bene perché lo sto analizzando insieme a voi questo iPhone, ci sono solo dei segni di sporco che vengono via, sulla parte frontale sono un po' di sporco, anche in questo caso la ripresa è stata completata, quindi direi nessun danno, non vedo assolutamente nessun danno della prima caduta, quindi direi che possiamo procedere con la seconda caduta con impatto verticale, da altezza tasca. Siamo pronti quindi per la seconda caduta, sempre da altezza tasca, questa volta con impatto verticale. 3, 2, 1, via! In questo caso impatto netto su questa zona, ma anche in questo caso non vedo nessun segno, è inutile guardare altrove perché appunto l'impatto è stato veramente netto qui, quindi si doveva formare al massimo qualche scalfitura della zona degli altoparlanti, direi che possiamo procedere, quindi con la prima caduta schermo verso il basso, vedremo se iPhone 6s ci lascerà già a questo punto. Mentre spunta il sole siamo pronti, prima caduta con schermo verso il basso, da altezza tasca. Non mi aspettavo che lo schermo cedesse e infatti non ha ceduto. Schermo intatto, vediamoci sono un po' di sporco come stiamo vedendo che sta capitando sempre, nessun altro segno davvero. Nessun segno, proviamo un attimo il touch ID se funziona ancora. E sì, funziona perfettamente, quindi direi che possiamo procedere passando ad altezza di utilizzo con la caduta con schermo verso l'alto. Bene, quindi prima caduta dall'altezza di utilizzo con schermo verso il basso. In 3, 2, 1, 1, Allora, iPhone ancora una volta sano sulla parte anteriore. Sulla parte posteriore ho notato un po' di sporco, forse ancora una volta, sì, sulla fotocamera. Non c'è nessun segno, neanche sulla parte in generale qui sul retro. Quindi questo alluminio 7000 si sta dimostrando già più resistente rispetto a quello di iPhone 6s. Per ora l'iPhone è come se non fosse mai caduto. Ha già fatto 4 cadute, ma è come se appunto non fosse mai caduto. Adesso gli aspetta la caduta ad altezza di utilizzo con impatto verticale. Adesso tocca alla caduta ad altezza di utilizzo con impatto verticale. Fatemi registrare. Mi sistemo. Sono pronto. Al 3, 2, 1, 1, Ok, ancora una volta l'iPhone sta registrando. Andiamo a vedere se ci sono segni sul retro. E ragazzi, è impressionante al momento, anzi no, non è per nulla impressionante perché qui c'è un leggero segno. Sì, questo è un segno, non so se riuscite a vederlo. Proprio vicino allo speaker c'è un piccolo segno di scalfitura. Devo dire che molto però è andato via semplicemente pullendo. Non sono sicuro che sia un segno e infatti no, probabilmente è solo sporco. C'è solo, sì, qualche graffietto minimo qua, però neanche, si fa fatica veramente a notarlo anche... Ah, qui c'è invece, sì, qui forse è il punto di impatto, ok. Qui si vede proprio un po' uno scorticamento dell'alluminio, quindi l'impatto sarà stato qui principalmente e poi c'è stato un riflesso anche su questo lato. Quindi l'alluminio inizia a mostrare i primi segni di cedimento, ma a dire cedimento mi sembra anche esagerato considerata l'altezza da cui sta accadendo questo telefono. Adesso dà la stessa altezza però dovrà cadere con lo schermo verso il basso e qui potrebbe iniziare a diventare un po' problematica la situazione per questo Rose Gold 64GB iPhone 6S. Adesso si inizia a fare sul serio, quindi seconda caduta sullo schermo, questa volta non da altezza tasca ma da altezza di utilizzo. Per iPhone 6S valuteremo la resistenza dello Ionix Glass implementato da Apple in questa nuova versione del suo iPhone. Caduta in 3, 2, 1 Anche in questo caso ragazzi il risultato è ottimo, il telefono presenta uno schermo ancora funzionante e non vedo neanche dei graffi sinceramente, anche se la Ionix Glass interviene più che altro dal punto di vista degli impatti. Comunque schermo sanissimo, chiaramente schermo sanissimo, sul retro non abbiamo problemi e quindi io direi che possiamo addirittura procedere con le prime cadute da altezza di chiamata che sono quelle che potranno fare più male a questo iPhone. Siamo giunti quindi alla prima caduta da altezza di chiamata, l'altezza più elevata su cui testiamo la durata, insomma la resistenza di questi terminali se non poi aggiungendo qualche gradino per valutare proprio se il grado di resistenza è al massimo. Quindi caduta da altezza di chiamata con impatto sul retro. 3, 2, 1 Caduta netta sul retro di questo telefono, qui c'è un po' di sporco, sì un po' di sporco la fotocamera era leggermente sporca anche lei quindi non è rigata anche la cornice sembra resistere particolarmente bene non vedo nessun segno particolare ragazzi, ah no qui c'è un bel punto in realtà non so se riuscite a vederlo, quello è un puntino proprio, è stato penetrato l'alluminio anche qui e anche qui, anzi no il secondo era un po' sporco e dei piccoli segni si iniziano a notare ma per il resto insomma la fotocamera funziona alla perfezione vedete sto ancora registrando quindi veramente nessun problema per ora. Procediamo con altezza di chiamata con impatto laterale. Adesso caduta da altezza di chiamata con l'iPhone che cadrà nel modo più probabile in cui vi cadrà da questa altezza, ossia con impatto verticale caduta in 3, 2, 1 In questo caso l'impatto ha avuto un effetto decisamente più evidente rispetto alle precedenti cadute su questa parte del telefono, vedete abbiamo un bozzo qui notevole si nota davvero tanto, qui rimane invece inalterata il danno della precedente caduta per il resto non abbiamo altri problemi se non quelli segnalati dopo le prime cadute lo schermo chiaramente funziona ancora e noi siamo pronti quindi per la caduta che forse potrebbe essere decisiva forse no, chi lo sa con schermo verso il basso da altezza di chiamata Quindi caduta da altezza di chiamata con lo schermo verso il basso siamo pronti, vediamo se resisterà ancora questo iPhone 6S 3, 2, 1 1 Allora ragazzi eccoci qui, iPhone 6S è sopravvissuto ancora sto avendo dei problemi col Touch ID forse che era solo l'impronta della mano nessun problema, ho guardato non ci sono graffi proviamo il funzionamento magari della fotocamera anteriore funziona perfettamente quindi nessun problema e il Touch ID anche funziona bene abbiamo visto lo schermo è perfettamente ok il 3D Touch è ancora disponibile quindi direi che possiamo passare alle cadute quelle sopra la testa ragazzi prima di passare agli scalini le cadute sopra la testa sono già diciamo una situazione meno realistica però per valutare la durata dello schermo insomma di questo telefono siamo pronti a tutto quindi partiamo con la prima caduta da sopra la testa direttamente con schermo verso il basso allora ragazzi per ora iPhone 6S sta confermando le ottime prestazioni di resistenza fatte già vedere da iPhone 6 un anno fa adesso gli tocca la caduta da sopra la testa con impatto sullo schermo partiamo in 3, 2, 1 vedete io ve l'avevo detto questo iPhone 6S non mi piace e c'era un motivo non mi piaceva perché non è così resistente come il mio iPhone 6 che l'anno scorso aveva superato tutte le prove incluse le cadute sopra la testa sullo schermo senza problemi e invece qui abbiamo una bella ragnatela guardate un po' che brutta scena o meglio per me è una bella scena perché finalmente potrò fare a meno di questo iPhone 6S e per il resto insomma sul retro non ci sono problemi chiaramente aggiuntivi rispetto a quelli che abbiamo visto prima perché l'impatto è stato netto sullo schermo e faccio anche fatica a trovare il punto di impatto perché come potete vedere le fratture sono abbastanza ben distribuite proviamo velocemente se funzionano le cose principali fotocamera posteriore ok fotocamera anteriore ha uno strano provo a fare una foto ha uno strano alone effettivamente quella posteriore invece assolutamente no va benissimo proviamo anche il Touch ID funziona al 100% proviamo il 3D Touch 3D Touch ragazzi scopriamo che funziona anche con lo schermo fratturato però lo schermo dà degli effetti diciamo di luce strani quando premiamo un po' troppo forte cosa che guardate guardate qui cosa che non dovrebbe capitare su iPhone diciamo sano quindi che dire Rose Gold te l'ho detto non mi piacevi non sei per me non fai per me scherzi a parte ragazzi abbiamo fatto tutta questa scenetta semplicemente per rendere più divertente il video e più odioso per chi comunque lascerà commenti negativi e odierà questo video ma come al solito il telefono ci è stato fornito non l'abbiamo acquistato davvero noi per romperlo ci è stato fornito da iPhone Repair di cui parleremo subito dopo questa parte del video che è un'azienda che fa riparazioni iPhone quindi loro chiaramente sponsorizzano il video e noi abbiamo potuto valutare insieme a voi la durata di iPhone 6s è durata chiaramente che non è scientifica perché magari vi potrà cadere dalla tasca o mentre siete seduti e si romperà comunque lo schermo però facendo le stesse prove cercando di riportare sempre le stesse condizioni abbiamo visto come ad oggi iPhone 6 mantenga ancora una volta il primato di iPhone più resistente seguito da iPhone 5c da iPhone 6s e iPhone 5s invece si totalizza diciamo il punteggio più basso perché si è rotto se non erro dopo una caduta con lo schermo verso il basso da altezza di utilizzo quindi iPhone 6s non è il peggiore non è neanche il migliore neanche per sogno dato che iPhone 6 ha sopravvissuto a tutte le prove a cui l'abbiamo sottoposto questa cosa vi deve preoccupare lo schermo di iPhone 6s è fragile assolutamente no ha subito comunque 10 cadute e si è rotto alla decima quindi veramente non dovrete preoccuparvi consiglio una cover assolutamente sì magari anche una pellicola protettiva se poi volete essere sicuri al 100% magari un bel vetro temperato quello sì che vi mette al sicuro da ogni eventuale problema comunque adesso parliamo di iPhone Repair adesso ci prendiamo qualche secondo per parlare di iPhone Repair l'azienda che ha offerto questo video e che opera su tutto il territorio nazionale eseguendo riparazioni e assistenza tecnica sui prodotti Apple come iPhone, iPad, Mac quindi se avete un problema e volete recarvi non da Apple ma da un'azienda terza con prezzi più vantaggiosi per quanto riguarda le riparazioni specialmente fuori garanzia iPhone Repair sarà in grado di soddisfare ogni vostro dubbio ogni vostra esigenza tramite il sito internet iPhoneRepair.it è possibile personalizzare una riparazione ottenere un preventivo o contattare direttamente lo staff dell'azienda per programmare un ritiro del dispositivo o comunque una consegna per ottenere la riparazione del device danneggiato per ulteriori informazioni vi invitiamo quindi a visitare iPhoneRepair.it e a mettervi in contatto direttamente con lo staff dell'azienda bene ragazzi quindi da Andrea Cervone per iPhoneItalia.com è tutto ricordatevi di lasciare un bel like se il video vi è piaciuto e noi ci risentiamo al prossimo video ciao a tutti però non era così male con Rose Gold grazie a tutti